Presentata a Pescara la cinquantesima edizione della mostra dell'artigianato artistico abruzzese che si terrà a guardia grele dal 1 al 23 agosto 2020. Alla conferenza stampa ha partecipato l'assessore alle attività produttive e turismo Mauro Febo. L'area espositiva quest'anno è stata curata dagli architetti Pamela Denardis e Angelo Bucci e sarà fruibile da tutto il mondo attraverso un virtual tour che permetterà al visitatore di percorrere tutte le stanze, vedere gli oggetti esposti e collegarsi direttamente con l'e-commerce per visualizzare i dettagli di ciascun elemento. L'edizione di quest'anno inoltre renderà omaggio all'arte orafa e agli artigiani storici. Nonostante la pandemia e l'emergenza sanitaria ancora in corso, ha spiegato l'assessore Mauro Febo, gli organizzatori hanno voluto riproporre l'evento che rappresenta una straordinaria occasione di promozione del nostro artigianato artistico. Il tour virtuale permetterà all'utente, infine, di visitare le stanze dedicate all'arte che quest'anno ospitano 5 artisti invitati a raccontare il loro punto di vista sul rapporto tra uomo e natura.